prova prova 1 2 3 prova prova così buongiorno a tutti e benvenuti su book rider ma tanto chi cazzo se ne frega io non lo so allora ma come cazzo funziona la grammatica essenziale consigli di egno flaiano ad un giovane alfabeta che vuole darsi la letteratura attratto dal numero di premi letterari chi apre il periodo lo chiuda è pericoloso sporgersi dal capitolo cedete il condizionale alle persone anziane alle donne e agli invalidi lasciate l'avverbio dove vorreste trovarlo chi tocca l'apostrofo muore abolito l'articolo non si accettano reclami la persona educata non sputa sul componimento non usate l'esclamativo dopo le 22 signori scusatemi sì ma sono le sono le 11 scusate sono le 11 e 38 è ancora consentito sì ma le 11 e 38 del mattino non si risponde agli aggettivi incustoditi per gli anacoluti i servizi del cestino tenere i soggetti al guinzaglio non soltanto quelli letterari non calpestare le metafore i punti di sospensione si pagano a parte non usate le sdrucciole se la strada è bagnata per le rime rivolgersi al portiere l'uso del dialetto è vietato ai minori di 16 anni è vietato servirsi del sonetto durante le fermate è vietato aprire le parentesi durante la corsa nulla è dovuto al poeta per il recapito tratto da l'uovo di marx di engel flyan